È stata una delle concorrenti più amate in quest'ultima edizione del GF VIP Per lei non è stato il primo reality, dal momento che ha già partecipato all'Isola dei Famosi e a Pechino Express In una intervista radiofonica rilasciata a RTL 102,5 ha anche fatto sapere recentemente che sarebbe felice di partecipare a Tentation Island Mi piacerebbe molto, ma Roberto non vorrebbe mai con me. Quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato Il fidanzato, Roberto Zappun, è stato più volte all'interno della casa più spiata ad una vera e propria ancora di salvezza Soprattutto nei momenti più difficili ha rivolto il pensiero al suo compagno, non senza provare un po' di senso di colpa per averlo lasciato solo tutto il tempo della permanenza al grande fratello Continua dopo la foto. Quando i conduttori Fredella e Simbioli le hanno chiesto come sta, Maria Teresa si è mostrata allarmata e piena d'angoscia Ha spiegato che si trovava a casa della madre e perché aveva avuto un lieve malessere di recente La mia mamma non sta molto bene. Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Continua dopo la foto, anche per questo motivo si è fatta sentire poco sui social Ma nelle ultime ore è tornata nuovamente a comunicare attraverso le Instagram stories poiché è rimasta stupita dopo aver visto a Torino un attraversamento di volatili La 60enne ha manifestato il suo stupore, ma soprattutto ha avuto il timore che le Ana 3 sarebbero potute finire sotto qualche automobile in corsa Oltre a scrivere pericolo, l'ex Jeffina ha detto, incredibile, ma non ci posso credere Continua dopo la foto, ha affermato, ragazzi ma sono bellissimi, il problema è che hanno appena attraversato la strada come potete vedere Sono qui a Torino. Non si riesce a passare ovviamente. La conduttrice non ha nascosto il suo stupore, guardate che belli Beh che cosa fa la natura? Poi ha rivolto una domanda alle Ana 3, ma voi volete attraversare? Dove volete andare? Mi ci metto io in mezzo alla strada? L'ex Jeffina ha documentato nel dettaglio l'attraversamento delle Ana 3, ecco che attraversano Fermi tutti! Che belli che siete! Qual ce l'abbiamo fatta per un pelo? Ma vi rendete conto? Fortunatamente siamo riusciti a fermare tutte le macchine Pubblicato il 3 aprile 2021 alle ore 15 e 15 Modifica il 3 aprile 2021 alle ore 15 e 15 Spezia! Grazie a tutti!